Io sono un operaio, faccio lavoro in un'azienda multinazionale. Noi abitando sopra al terzo piano vediamo un po' tutto giù e quindi i ragazzini li vedi che sono abbastanza annoiati, compreso i miei insomma un po', no? E niente praticamente dopo una giornata, non dico noiosa, ma insomma un po' stancante con le bambine a casa. Mia moglie la vogliono ospedale tra l'altro, quindi è molto presa al lavoro. È arrivata a casa mia moglie così in punto in bianco li faccio ma... Non è venuta un'idea, gli ho detto. Sai che faccio? Visto che quel costume che ho comprato l'anno scorso per fare il pagliaccio, il clown per carnevale, lo uso. Mi metto lì nel giardino giù, mi preparo un attimo e faccio un po' di spettacolo, almeno faccio ridere un po' i ragazzini perché sono un po' annoiati. Allora, cominciamo. Siamo quasi pronti. Sono andato giù e ho fatto divertire e mi sono divertito. Certo è stata un'improvvisata ovviamente perché non è mio mestiere questo, non so fare chissà che numeri, però in quel che ho fatto, quel che ho creato, insomma ho fatto divertire. Quindi noi abitiamo in un posto qui tutto rotondo a rettangolo e abbiamo, siamo più di 300 famiglie qui e quindi erano tutti nei balconi a fotograffare, giocare, vedere, insomma io partecipavo un po' con tutti. Ovviamente ho creato il gruppo, tutti contentissimi. lentissimi. Vale. L'andiamo elastichino, dividiamolo bene per gli spazi. Vale. Capelino e sono voilà! Prontissimo! Prontissimo!